aspetta aspetta dammi la luce dammi la luce ti fai un video da? dammi la luce ma ho trovato sui due video dai la luce guarda quanto esenziale madonna guarda quanto prima ci potremo trasciare da che c'è c'è vieni a sinistra c'è vieni ti trasci tu prima guarda che ragni ci so non ce nebbiamo